Ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Queste sono le parole che Paolo scrisse al suo giovane collaboratore nella seconda epistola a Timotio capitolo 1 versetto 13. Senza dubbio Paolo è stato un esempio in tutti i sensi. In questa parola esorta con forza a prendere come esempio il suo insegnamento. Egli usa l'espressione come esempio di sana dottrina. Quindi dovevano esserci dottrine sbagliate anche in quel tempo. L'Apostolo aveva ricevuto una chiamata straordinaria e un compito particolare. Lui era come una sentinella sulle mura di Sion per controllare che nessun insegnamento estraneo si insinuasse nella chiesa. Lui scrive in Galati capitolo 1 versetto 11. Chiunque abbia ricevuto una chiamata divina a predicare il Vangelo sarà completamente d'accordo con quanto insegnato da Paolo. Lui era così sicuro di sé che scrisse in Galati capitolo 1 versetto 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia maledetto. Non ha scritto queste parole da sé. Se tutti coloro che predicano il Vangelo in modo diverso da come veniva predicato nel cristianesimo primitivo cadono sotto la maledizione, allora il giudizio è già stato pronunciato. Che cosa ha insegnato Paolo sulla Deità? Nella prima epistola a Timotio capitolo 3 versetto 16 sta scritto Che questo sia il mistero più grande e chiaro a tutti noi. È possibile che finché siamo sulla Terra e il pensiero umano si aggrappa a noi, non possiamo vedere le profondità di questo mistero. Ma ancor meno dovremmo cercare di dare spiegazioni intellettuali. Non siamo chiamati a spiegare o interpretare la parola di Dio, ma a predicare con fede. La trasfigurazione è già stata fatta dallo Spirito Santo. Sulla base delle parole che abbiamo appena letto nella prima epistola a Timotio capitolo 3 versetto 16 Vorrei porre le seguenti domande. Quando è stato manifestato Dio in carne? Quando è stato giustificato nello Spirito? Eccetera eccetera. Dobbiamo tutti ammettere che si è adempiuto in Gesù Cristo. Dio stesso è nella sua essenza Spirito come Padre. Nella sua incarnazione si è rivelato come Figlio, affinché noi potessimo diventare figli di Dio attraverso di Lui. Lui doveva venire in questo mondo, prendere le nostre sembianze e pagare il prezzo della nostra redenzione e distruggere colui che aveva il potere della morte. E così ha fatto apparire la vita e l'essere incorruttibili. Ebrei capitolo 2 versetti 14-18 Sono pienamente consapevole della reazione che deriva dalla dichiarazione di fede che il Signore Gesù è Dio stesso manifestato in carne. Soprattutto in questo tempo in cui ogni sorta di disprezzo viene portato sul Signore della gloria che è stato umiliato solo per poco tempo ma ora è pieno di gloria e maestà. Non oserei mai dire qualcosa che le scritture non dicono. In Romani capitolo 9 versetto 5 Paolo scrive di Cristo quanto segue Dei quali sono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen Paolo ha risposto a questo fatto divino con un potente Amen Chi non riesce a dire Amen di cuore si esamini se non è caduto nei suoi pensieri di presunta furbizia e non predica il Vangelo in modo diverso da come faceva Paolo In Apocalisse capitolo 1 versetto 7 sta scritto Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà anche quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui Sì, Amen Questo brano parla della venuta del Signore Egli stesso si presenta a noi nel versetto 8 e dice di sé Io sono l'Alfa e l'Omega Il principio e la fine dice il Signore che è, che era e che ha da venire l'Onnipotente Per me è prezioso quando mi è permesso di leggere questi passi della Bibbia Qui il nostro Signore e Maestro di cui aspettiamo la venuta testimonia di sé che Egli è il Signore Dio Chiedo a tutti di notare che questa è la testimonianza di Gesù Secondo Apocalisse capitolo 19 versetto 10 coloro che partecipano alle nozze dell'agnello hanno la testimonianza di Gesù Il suggellamento da parte dello Spirito è collegato alla testimonianza di Gesù perché la testimonianza di Gesù è lo Spirito della profezia Che tutti possano comprendere che è solo l'amore di Dio che in questi ultimi giorni la Sua parola sia stata così meravigliosamente rivelata Beato chi è invitato alla cena delle nozze dell'agnello Beato chi partecipa alla prima risurrezione e può entrare in questa aurea città Oh, che tutti possano sentire il campanello d'allarme e rendersi conto che è Dio che vuole parlare ai Suoi e rivelarsi a loro Quando Paolo ci esorta ad attenerci alla parola di Dio agli insegnamenti delle Sacre Scritture dobbiamo lasciarci alle spalle tutto il resto Nella prima epistola a Timotio capitolo 4 versetto 6 sta scritto Proponendo queste cose ai fratelli Tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo Nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino Dio ha posto le verità perdute delle scritture sul candelabbro in modo speciale soprattutto ai nostri giorni attraverso il ministero del noto uomo di Dio William Branham La luce splende nelle tenebre ma le tenebre non l'hanno compresa Tutti quelli che camminano nelle tenebre sono inciampati in molte cose ma la scrittura dice che chi cammina nella luce non inciampa La parola di Dio è una lampada al nostro piede è un lume sul nostro sentiero Non è necessario imparare l'ebraico o il greco per capire la Bibbia è sufficiente essere riempiti di Spirito Santo perché solo attraverso lo Spirito che ha dettato il contenuto delle scritture possiamo avere la giusta comprensione della parola di Dio Questo è il tempo in cui Dio chiama il suo popolo fuori da ogni aberrazione e anche da ogni confusione perché tutte le cose giungono a una conclusione in questo tempo Dai giorni della riforma abbiamo assistito all'ascesa del regno di Dio al lento ritorno al punto in cui si trovava la Chiesa nel cristianesimo primitivo Attraverso la giustificazione della fede in Gesù Cristo come nostro Salvatore attraverso la santificazione nella verità nella parola di Dio attraverso il riempimento con lo Spirito Santo secondo la promessa che Dio ci ha dato nella sua parola Pietro scrive nella prima epistola di Pietro capitolo 1 versetto 22 Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore Prima di tutto questa purificazione deve avvenire attraverso il lavacro dell'acqua della parola prima di potersi amare intensamente di cuore con l'amore divino Nella prima epistola di Pietro capitolo 4 versetto 7 sta scritto Or la fine di tutte le cose è vicina Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri dove c'è la vera parola di Dio c'è anche il vero amore di Dio Cari ascoltatori lo scopo di questo sermone è di farvi conoscere Dio e la sua parola non con gli insegnamenti di una chiesa o di una denominazione ma con gli insegnamenti puri delle sacre scritture Forse siete stati delusi dalle persone forse avete deluso gli altri ma per voi dovrebbe essere un nuovo inizio con Dio perché alla fine siete soli davanti a Dio nessuno può difendervi sono convinto che tutti i predicatori della parola di Dio siano obbligati a dire alle persone se l'esposizione delle scritture o il compimento di un atto religioso è una questione biblica o ecclesiastica la maggior parte delle persone mette insieme le due cose e mette sullo stesso piano Dio e la chiesa la sua parola e la chiesa è l'errore più grande che si commette Dio parla nella sua parola della sua chiesa che è stata comprata dal sangue dell'agnello di Dio Gesù Cristo e vive secondo la sua volontà ma al giorno d'oggi ci sono così tante direzioni diverse e tutte fanno riferimento alla parola di Dio pur insegnando secondo le linee guida stabilite dall'organizzazione esistente o pertinente sono grato al Signore Dio dal profondo del mio cuore di non essere al servizio di una comunità religiosa o di dipendere da essa ma di poter predicare la parola in modo libero e indipendente da tutti e di dipendere solo da Dio è volontà di Dio che tutti gli uomini siano aiutati e giungano alla conoscenza della verità infine torniamo alla parola iniziale la guida per tutte le questioni di fede e dottrina può essere solo la parola di Dio anche voi dovete prendere la vostra decisione preghiamo Padre Celeste la tua santa benedizione riposi su tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola aiutali a prendere la giusta decisione che sia la decisione per te e per la tua parola lo chiedo nel nome di Gesù amén di Gesù si di Gesù di Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.